Vice Presidente Pietro Scafetta, nuova stese, progetto rinnovato, nuovo allenatore, nuovo staff anche dietro la scrivania, c'è Ferdinand Ruffini, c'è Andrea Masciangelo però si riparte da un blocco vastese in mezzo al campo con un obiettivo i playoff e ci teniamo anche un po' bassi? Sicuramente i playoff però stiamo cercando di, come si dice, di alzare l'asticella perché in tre anni abbiamo avuto sempre lo stesso allenatore e era il momento di girare e voltare pagina e quindi adesso siamo ripartiti da zero e speriamo di almeno fare un buon campionato Che cosa ad un certo punto non ha funzionato l'anno scorso? Voi come l'avete vissuta? Molto male perché nel giorno di andata è andato tutto bene, eravamo anche i primi poi non riusciamo a darci pace e capire perché al ritorno perdiamo le partite e rischiamo anche di retrocedere e ormai era il terzo anno quindi c'era qualcosa che non andava più bene, era da cambiare Che cosa vi ha fatto propendere per Ottavio Palladini? Allenatore comunque giovane, in ascesa? Ottavio Palladini era già nel mirino un anno fa solo che lui ha deciso di non venire perché per le sue vicissitudini però diciamo che è un allenatore che conoscono tutti, conosce bene la piazza della Serie D e quindi noi ci puntiamo molto Con una piazza che è inutile nascondersi, è pronta ad infiammarsi di nuovo come ha fatto in più di una circostanza negli ultimi anni perché ha sete di alta classifica? Qui si vede che Vasto è proprio una città che crede molto nel calcio e vive di calcio quindi anche quest'anno abbiamo visto un entusiasmo anche in città con la venuta di Palladini, del DS quindi noi ci crediamo e speriamo che sarà un'annata veramente di soddisfazioni